Dai toni accesi al fair play, sull'Imu sfumano le polemiche dentro l'inquieta maggioranza che sostiene il governo delle larghe intese, ma la guardia soprattutto nel PDL resta alta. Il premier Letta ha ribadito che la riforma della tassazione sugli immobili arriverà entro fine mese. Il 31 agosto dunque la deadline confermata da Letta, che passa ovviamente da un difficile accordo politico, forse non troppo lontano. Ricordiamo che l'abolizione del Balzello su tutte le prime abitazioni, a prescindere dai metri quadri, costerebbe 4 miliardi l'anno. Così si legge anche nel dossier preparato dal ministro dell'economia Saccomanni, che contiene non una ma svariate opzioni sul tavolo per superare l'imposta sulla prima casa, tra gli impegni del resto presi dall'esecutivo. Superare però non vuol dire abolire del tutto, così ricordava da Bacu domenica scorsa lo stesso presidente del Consiglio, invitando a rileggere il discorso pronunciato in Parlamento ad aprile. Ma è altrettanto noto che dell'abolizione dell'IMU il PDL ne fa ormai una questione di sopravvivenza stessa dell'esecutivo. Il nodo è quindi tutto politico, al netto ovviamente delle coperture ancora da trovare e di indicare. Il dibattito, dopo gli eccessi dei giorni scorsi, sembra ora virare sulla service tax, in sostanza sull'accorpamento di varie tasse locali, comprese IMU e Tares. Un'ipotesi pare già oggetto di trattativa. I tecnici dei partiti sarebbero al lavoro e, secondo fonti di agenzia, scongiurato il pagamento della rata di settembre, si cercherebbe il compromesso per quella di dicembre. La service tax potrebbe essere una base di partenza, afferma chiaramente il sottosegretario all'economia Barretta. La strada migliore per sostituire l'IMU, concorda anche il ministro della pubblica amministrazione, Dalia. Il nostro punto di partenza era ed è l'IMU federalista del governo Berlusconi, replica al capogruppo del PDL alla Camera Brunetta, che escludeva la prima casa e includeva alcune tasse locali. Sarebbe paradossale, aggiunge Capezzone, se prevalessero atteggiamenti di chiusura, gli italiani attendono. Ma dal PD Francesco Boccia lo invita a mettere da parte la propaganda e pensare all'equità, bene pertanto la tassa di servizio. I democratici, d'altra parte, propendono per la rimodulazione. Ci sono altre priorità, avverte Damiano, come il dramma degli esodati. Il 23 agosto si riunirà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe suggellare l'intesa con un via libera di massima, ma l'addio all'imposta sulla prima casa o quello che sarà non arriverà prima della fine del mese. Il PDL teme però che dietro la rimodulazione della tassazione si nascondano trucchi o imbrogli, che il partito del Cavaliere non potrebbe mai accettare. Ecco perché chiede di vedere le carte. Grazie a tutti.